Buongiorno, 8 marzo, Festa della Donna, voglio riprendere un concetto che arriva dalla esegese ebraica proprio in relazione alla fabbricazione di Eva che è interessante perché si ricollega effettivamente alle vicende così come sono narrate nella Bibbia. Allora, per stringere ovviamente, perché della fabbricazione di Adamo e Eva ho già parlato ampiamente in altri video, allora a un certo punto il Signore Dio formò l'uomo e il verbo che è usato per indicare quest'azione in Genesi 2.7 è il verbo Yazzar ed è questo che fa notare questa esegese ebraica. Formò l'uomo e poi lo prende e lo pose nel giardino di Eden perché lo coltivasse e lo custodisse. Però a un certo punto dice non è bene che l'uomo sia solo, voglio fargli un aiuto che gli corrisponda e in ebraico il termine che neghedò. Che neghedò che vuol dire come di fronte a lui, come dirimpetto a lui, cioè qualcuno che proprio gli stia di fronte, che gli corrisponda, che gli corrisponda in toto. E allora che cosa fa? E qui devo dire la cosa mi stranisce un pochettino perché per fare qualcuno che gli corrisponda il Signore Dio plasmò ogni sorta di animali selvatici e tutti gli uccelli del cielo e li condusse l'uomo per vedere come li avrebbe chiamati. E poi però dice ma per l'uomo non trovò un aiuto che gli corrispondesse, di nuovo che neghedò. Cioè è strano che questi Elohim, questo presunto Dio, per trovare un aiuto che vada bene l'uomo fa tutti gli animali e poi si accorge che questi animali non vanno bene e deve fare qualcos'altro. Mi viene da dire con una battuta è come se non avesse le idee molto chiare. Poi, forse qualcuno lo ricorderà, negli altri video ho già letto anche sempre dall'esegese ebraica, che Adamo aveva rapporti sessuali con tutti questi animali e questo gli era consentito fino a quando non gli è stata fabbricata Eva. E allora cosa fa? Diciamo che allora questi Elohim si accorgono che per l'uomo non c'era veramente, tra tutti gli animali, un aiuto che gli potesse stare di fronte, che gli corrispondesse e allora sappiamo che cosa fanno? Fanno quell'intervento per cui addormentano il maschio, gli prendono un qualcosa dalla parte laterale che viene tradotto con costola ma non significa necessariamente costola, chiudono la carne dove hanno fatto il prelievo e con ciò che hanno preso fabbricano la donna. E qui l'esegese ebraica fa notare la grande differenza che c'è tra i due verbi, cioè per Adamo viene usato il verbo Yazzar che significa plasmare, dare forma, un po' come appunto il vasaio che dà forma alla creta. Invece per la donna la Bibbia usa il termine Banà che vuol dire letteralmente costruire e qui quindi si dice che mentre l'uomo, il maschio, è stato plasmato, è stato formato, la donna viene costruita. Ma la cosa interessante che fa notare l'esegese ebraica è che Banà è riconducibile al termine Binà e il termine Binà significa intelligenza e quindi loro fanno notare che in questo particolare atto degli Elohim si vuole mettere in evidenza come nella donna sia stata introdotta una particolare forma di intelligenza, sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo e quindi questo ovviamente la rende corrispondente al maschio, cioè è un essere vivente che può stare negedò, che può stare di fronte a lui, di rimpetto a lui, tant'è che proprio quando gliela presentano Adamo dice questa volta è osso delle mie ossa e carne della mia carne, cioè finalmente, come traducono gli ebrei in inglese, nelle Bibbie in inglese, finalmente mi avete fatto un essere vivente che corrisponde a me, quindi finalmente avete fatto una cosa giusta ed è strano che Dio non se ne sia accorto subito e abbia dovuto fare prima dei tentativi con gli animali, però così ci racconta la Bibbia e noi ne prendiamo atto. E quindi la si chiamerà donna perché dall'uomo è stata tolta, cioè la si chiamerà Isha perché deriva da Ish, cioè è stata fatta con un pezzo di un Ish. Quindi questo racconto della Bibbia è, sarebbe, ma vogliamo assolutamente pensare che sia un omaggio all'intelligenza della donna e quindi la cosa migliore è fare un omaggio all'intelligenza della donna proprio nel giorno in cui la donna viene festeggiata e quindi auguri a tutte le amiche della community e non solo. Ciao, grazie e alla prossima. Grazie.